Leonardo Giglio, 29 anni, brindisino, ex pugile, attualmente dipendente di una ditta di trasporti, è stato arrestato dalla squadra mobile di Brindisi con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel pomeriggio di ieri i poliziotti sono andati a trovarlo sul posto di lavoro e lo hanno ammanettato in flagranza di reato. Nel corso di una perquisizione personale, infatti, gli agenti hanno recuperato 5 involucri circolari contenenti cocaina. Mentre l'uomo veniva condotto in questura per ulteriori accertamenti, scattava la perquisizione presso la sua abitazione e nel box auto di sua proprietà sono stati ritrovati altri 500 grammi di cocaina già suddivise in dosi. Durante ulteriori controlli sono venute la luce anche a 2.000 euro in contanti, presumibilmente a provento dell'attività di spaccio. Alla luce di tutto questo, l'uomo su disposizione del PM di turno Luca Buccheri è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Giglio era particolarmente noto negli ambienti pugilistici. Nel 2011 arrivò in semifinale nel campionato italiano dei pesi medi, però da circa un anno e mezzo aveva abbandonato l'attività agonistica.